In primo piano la situazione contagi da Covid-19 in Abruzzo, dove nelle ultime 24 ore non si registrano decessi e lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Ma vediamo la situazione, colleghiamoci in diretta con Marina Moretti che si trova a Chieti. Buonasera Marina, dunque cosa emerge dal bollettino dell'assessorato regionale alla sanità? Sì Giulio, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori, con Diego Martelli siamo venuti alla Palacus di Chieti, luogo dove si effettuano le vaccinazioni. C'è ancora qualcuno ma la situazione si presenta tranquilla e anche a me piace aprire questo collegamento che è il solito collegamento quotidiano che ci dà conto della situazione contagi in Abruzzo con la buona notizia, cioè quella della zero decessi nella giornata di oggi. Una notizia importante, vedremo se sarà confermata nei prossimi giorni, ma insomma lo vogliamo vedere anche come il segno che qualcosa sta cambiando. Si registrano comunque oggi 150 nuovi positivi, l'età da 7 mesi a 95 anni. I positivi che hanno meno di 19 anni sono 39, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Nel numero dei positivi sono compresi anche 63.093 complessivi dimessi o guariti, rispetto a ieri i guariti sono più 562. In Abruzzo attualmente sono positive 7.259 persone e qui c'è un meno, meno 412 rispetto a ieri. I tamponi eseguiti oggi sono circa 4.300, il tasso di positività è 2.4%, vi dico anche che il tasso di positività nazionale oggi è 2.5%, quindi la nostra regione è in linea. Ieri era 1.9%, l'altro ieri 3.9%, oggi 2.4%. Sono 246 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, rispetto a ieri meno 8, sono 24 in terapia intensiva con 0 nuovi ricoveri e meno 1 rispetto a ieri. Mentre gli altri 6.989 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'Asla, meno 403 rispetto a ieri. Quindi siamo scesi sotto i 7.000 in isolamento domiciliare. C'è anche da dire che la territorialità dei nuovi contagi, nella suddivisa per provincia, nella provincia dell'Aquila ci sono più 45 nuovi positivi, in quella di Chieti 63, in quella di Pescara 9, quindi Pescara continua ad avere questi buoni dati, e in provincia di Teramo 32. Questo è l'assunto complessivo del bollettino sanitario di oggi, quindi Gigliola se non hai domande io avrei concluso.